Giomino, pure alle maestri. No, io no. Come no? Ho detto che li voglio mettere proprio per ricordo, maestro Maria Laura. Sì, perché sono bellissime. Tutti realini costruiti dai bambini. No, loro sono creativi, molto ammettita. Sono stati veramente creative queste maestri. Vero. Questo è il capolavoro di maestra Daniela. Adesso ci spostiamo sulla materna. Questi sono i lavori delle prime. E qui andiamo sulla materna. Le palline, che sicuramente hanno aiutato le mamme, ma va bene lo stesso. Le palline, tanti pigni. Arriviamo al settore ginnastica. L'associazione Promo Sport, anche loro si sono impegnati tantissimo. Sono stati lavori, alcuni fatti direttamente dai bambini. Questo cestino è pieno dei lavoretti fatti dai bambini. Le scatoline. Una bella corona. Quanto questo è quello più fashion di tutte le bambini. Il banchetto più fashion, dice Cinzia. Ecco qua la comessa, per piacere. Un commento, dopo la giornata di ieri, impietrimento tuttale delle vite. Per non poter fare le cose. Ci sono volute tre stufette accese. Tre stufette, è posto. Quanti termos di roba cauda vi siete bevuti? Ah, io no. Niente. Non ho potuto approfittare. Va bene, per adesso è tutto. Buona fortuna. Grazie a tutti.